ciao a tutti oggi presenterò una ricetta di pesce del salmone al succo d'arancio con erba cipollina e aglio un abbinamento particolare molto gustoso dunque andiamo a mettere l'olio l'accendiamo e ci aggiungiamo subito il succo di arancia spremuto e dell'aglio a fettine basta uno spicchio per due persone aspettiamo che la salsa raggiunga il bollore per poterci adagiare i filetti di salmone aggiunta la riebollizione adagiamo i filetti di salmone scottiamo un attimino vediamo un po di sale e pepe aggiungiamo l'erba cipollina tritata lasciamo stufare il tutto per pochi minuti passati pochi minuti il filetti di salmone è pronto andiamo ad impiattare in questo modo due fettine di erba cipollina per guarnizione e il piatto è pronto la prossima ricetta ciao 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 ciao